Che fai? Mi vuoi mettere sotto? Ho fatto una domanda, rispondi, puttana! Ehi, non le parlare in questo momento! Ehi! Sei fuori di testa! Ma chi sei? Lavori qui? No, non lavoro qui, ma se vuoi ti butto fuori. Vediamo come cazzo fai. Vogliamo vedere cosa succede? Succede qualcosa di spiacevole. Sì. Che succede? Fuori, andiamo fuori! Sì, forza, andiamo fuori! Ti piace molestare la gente? Fai così il sabato dopo che vieni col secondo! Ammi il cappello, ricoglioni!